È stato definito l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per richiedenti asilo, costituiti da singole unità abitative per il bienio 2021-22, al termine dell'esame delle offerte svolto dalla Commissione giudicatrice della Prefettura. Cinque le realtà che si sono presentate al bando. Per ognuna sono state valutate le offerte di natura tecnica ed economica. Al primo posto si è collocata Mondi Aperti, con un punteggio di 97,60, poi Confini Azzurri con 51,61, Cefal Emilia-Romagna con 39,97, Olb Style con 30,20 e infine Arosi di Arossi Francesco e Rosanna con 29,56. L'appalto da 12 milioni di euro per un fabbisogno presunto di 700 posti consiste nella fornitura di beni e servizi presso i centri di accoglienza temporanea collocati nella nostra provincia e costituiti da strutture abitative con gestione in rete fino alla capienza massima di 50 posti. Attualmente, va precisato, i migranti che si trovano sul territorio piacentino sono 545. Il prezzo di partenza è di 23,50 euro al giorno a persona, di cui 2,50 di diaria. I servizi sono costituiti dalla gestione amministrativa, assistenza generica alla persona, assistenza sanitaria e poi fornitura, trasporto e consegna di beni. Con l'eventuale superamento dei decreti Salvini, di cui si parla in questi giorni, potrebbero essere reintrodotti i servizi integrativi, come corsi di italiano, formazioni professionali e accompagnamento al lavoro, che rimangono a pannaggio dei soli titolari di protezione internazionale.